Allora Alessandra Toddi, io arrivo da lei, aggiungo alcuni elementi perché Bagnai ricordava della debolezza della nostra pubblica amministrazione che non è uno scherzo del destino, cioè abbiamo fatto delle scelte negli anni passati, ci sono molti comuni e PNRR ed anche comuni piccoli la possibilità di realizzare dei progetti che hanno in comune, scusate il bisticcio linguistico, financo il segretario comunale, perché un segretario comunale svolge quel ruolo in più strutture, lo stesso vale per gli ingegneri, per gli architetti, e quindi immaginate su quelle persone quanto carico di lavoro arriva. Però Todde, banalmente, ma di chi è la colpa se sono a rischio? Lei c'era al Conte 2, quello che citava Bagnai, di chi è la colpa se oggi siamo qui a dire oddio siamo in ritardo, non ce la facciamo, è scientifico, è matematico che alcuni progetti non li realizzeremo? Parole del Ministro Fitto. Intanto la cosa che va detta come primo punto politico è che a fronte di una situazione in cui la nostra economia era a pezzi post pandemia e veramente è stata messa a durissima prova anche dalla crisi energetica, il fatto di poter avere risorse extra per poter investire sul nostro paese mi sembra che sia una cosa necessaria, non una cosa possibilistica. E io sono orgogliosa di rivendicare che con il governo Conte 2 il Presidente Conte ha portato a casa il PNRL, tra l'altro in una situazione in cui non veniva data alcuna credibilità sulla possibilità di poter convincere l'Europa ad una misura che è stata straordinaria e prima nel suo genere, quindi questo è il primo punto. Secondo punto, Bagnai così come la Lega era presente durante il governo Draghi, così come noi, quindi il punto è che quando si sono portati avanti i cantieri piuttosto che le priorità del PNRR si sono portati avanti, secondo delle logiche che erano delle logiche legate alla semplificazione, legate alle riforme. Il tema della pubblica amministrazione che ricordava è un tema presente da decenni, non è certamente un tema di adesso, è infatti uno dei principali problemi nell'attuazione del PNRR, il fatto che per esempio i concorsi della pubblica amministrazione, l'inforzo della pubblica amministrazione sta di fatto procedendo con estremo rilento, però in quell'ambito c'era un ministro, Brunetta, che ha cercato di fare delle attività che evidentemente non state particolarmente efficaci relativamente a rinforzare la pubblica amministrazione e quello che mi sorprende però e che voglio sottolineare è che una coalizione politica di maggioranza che fa la propria campagna elettorale dicendo che sono pronti a governare, conoscendo le regole del gioco, perché le regole del gioco del PNRR non sono state inventate adesso, sono comunque state condivise e si conoscevano molto bene, sa perfettamente quali sono i rischi, sa perfettamente quali sono le necessità e quindi lavora per fare in modo che queste cose debbano essere portate a casa. Senta, mi perdoni la semplificazione estrema nella domanda, ma nella bilancia delle responsabilità, il peso, lei lo metterebbe su questo governo sul precedente, sul governo Meloni o sul governo Draghi? Ma guardi che ogni governo ha la responsabilità di svolgere a pieno la propria fase di lavori, il governo Draghi aveva la necessità di progettare, di definire quelli che potevano essere gli interventi, il governo Meloni ha la necessità di metterle a terra sui territori e di attuare, ognuno si prende la propria responsabilità, ripeto, se uno arriva al governo dicendo che se sei pronti a governare, che governi e non cerchi scuse per non farlo. Mi verrebbe da dire, arrivo, arrivo, onorevole, mi verrebbe da dire che il coefficiente di difficoltà, Carlo, cambia, un conto è produrre riforme di carta, un conto è aprire i cantieri e chiuderli i cantieri. Ma il tema è che uno lo sa in partenza, non è che lo scopri dopo, ecco, questa è la cosa importante. No, no, però c'è una cosa che secondo me, Todde, la faccio sì replicare, però parto dalla fine di quello che diceva Bagnai, e cioè quei fondi che non riusciamo a spendere, dicono, sala, gualtieri, sindaci delle città, dateli a noi, ci pensiamo noi che siamo pieni di idee, possiamo metterli a terra facilmente perché abbiamo una macchina burocratica e di pubblica amministrazione pronta. Si può fare? Poi la faccio replicare ovviamente sulla prima parte del ragionamento dell'onorevole Bagnai. Hanno un problema sostanziale, non hanno capacità di progettazione, è vero che alcuni comuni più grandi hanno probabilmente, avendo avuto in passato anche più risorse, la possibilità di avere progetti nel cassetto, ma non è che noi dobbiamo promuovere un'Italia di serie A e di serie B considerando che molti comuni non hanno neanche la possibilità di prendersi i fondi del PNRR proprio perché non hanno capacità progettuale. Quindi al di là di andare dietro i singoli sindaci di città magari che sono più grandi, che sono più forti, io mi riempirei un problema obiettivo di come trasformare il nostro paese con questi soldi perché come ricordava Bagnai sono comunque debito e noi abbiamo la responsabilità di metterli a terra correttamente. Ma a me fa sorridere quello che diceva l'onorevole Bagnai prima perché io ero viceministra del Ministero dello Sviluppo Economico con un ministro, Giorgetti, del suo partito che era assolutamente in sintonia con il Presidente Draghi, con l'allora ministro Franco e sono loro che hanno messo in piedi l'ossatura sia per le politiche industriali sia per quanto riguarda quelli che dovevano essere le priorità legate al PNRR sia le principali riforme che sono state portate avanti. Quindi distaccarsene in questo momento mi sembra un po' bizzarro. Ma voglio ricordare anche un'altra cosa. Prima l'onorevole Bagnai citava il super bonus. Guardi, io su questo veramente sono sconcertata. Lo so che si accende onorevole. Perché il tema di cambiare idea ex post è sempre facile. Io vorrei ricordare i tweet, i post che, voglio dire, diligentemente mi sono annotata in cui sulla cessione del credito l'onorevole Bagnai ha fatto battaglia per cui il fatto che ci si risvegli la mattina facendo finta che le cose non sono accadute è francamente una cosa che è andata. Su un tweet è successa una cosa che voglio ricordare a tutti, anche all'onorevole Todde che non la sa evidentemente. L'euro è stato cambiato il manuale del debito pubblico. Allora ognuno ha diritto alle sue opinioni, ma nessuno ha diritto alla sua contabilità. A fronte di questo cambiamento del quadro non si poteva fare altro che evitare il dissesto dei conti pubblici. Però c'è un tema, e l'onorevole Bagnai me ne darà atto, che siccome il cambiamento delle regole sono arrivate esposte, perché cambiare la classificazione dei crediti dà il fatto di essere pagabili o non pagabili, è una cosa che è successa il primo di marzo di quest'anno. Ed è ovviamente stata una cosa che in ogni caso cambia il deficit e non il debito pubblico, perché è stata molto chiara in Commissione e Bilancio al Senato dicendo che i bonus edilizi non creano debito pubblico, l'ha detto assolutamente a chiare lettere. Io lo so, Todd, che voi siete embedded nel senso che, professor Bagnai, non so da quanti anni fa il professore di economia, lei è stata al ministero, da casa questa roba non arriva, avete perfettamente ragione, sono cambiate le regole, è cambiata la modalità, ma guardi la cosa da far capire i nostri telespettatori è semplicemente questo, il debito pubblico non è cambiato, è cambiata la possibilità per questo governo di fare deficit, perché con la riclassificazione che c'è stata c'è la possibilità per questo governo di avere più spazio per fare deficit. E a me il sospetto che mi viene è che non sia una cosa casuale. Mi dice se va bene la risposta che ha dato l'esecutivo sul Superbonus? C'è la correzione che ha dato, l'intervento che ha fatto proprio sui crediti? Ma guardi, io le dico questo, che sul Superbonus è stata, si è consumata una campagna tra l'altro sulla pelle di 40.000 imprese e 150.000 lavoratori che è vergognosa, perché si è cercato con una campagna di famatori incredibile, parlando di un buco di bilancio che l'onorevole Bagnai, essendo uno stimato economista, saprà perfettamente che non esiste, se non altro per i documenti DEF e NADEF che sono stati presentati e per i conti pubblici che hanno prodotto 90 miliardi di extra gettito che sono serviti alla finanziaria del governo Draghi e questa del governo Meloni, quindi soldi a casa mia non è che si producono o li porta alla Befana, ma voglio dire sono legati a entrate extra dello Stato, ecco sicuramente questo è stato causato dal fatto che c'è stata una misura espansiva temporanea, perché questo lo voglio ricordare, il governo Conte II aveva previsto il Superbonus per il 2020 e il 2021, il governo Draghi l'ha prorogato per il 2022 e il 2023 con un problema, con 11 cambiamenti della norma bloccando la cessione dei crediti per i quali non c'è ancora una soluzione oggi, ha fatto in modo che si creasse quell'ingorgo mostruoso di 12 miliardi per il Superbonus e 19 complessivamente per gli altri crediti che stanno creando così tanti problemi all'impresa. E' chiaro, dico chiaro, mi fa sentire Todd, sui contenuti del Codice degli Appalti e sull'allarme del Presidente dell'Autorità Garante Anticorruzione Giuseppe Busia? Ma intanto quello che voglio ricordare è che non certamente da me o da Movimento 5 Stelle, ma da organismi internazionali, penso per esempio a Transparency International, il nostro Paese agli ultimi posti come indice di corruzione, quindi dire che la corruzione, che certamente esiste e resiste in maniera pesantissima in altri Paesi, quello che diceva Bagnai di Siemens è assolutamente corretto, però nel nostro Paese comunque è registrato ed è un problema considerando che abbiamo anche... Carlo Fusi ci dava un numero, scusi Todd, 60 miliardi dati di Corte dei Conti. Esattamente, quindi voglio dire, secondo la Corte dei Conti non sono tematiche che sono espresse da una parte politica, ma sono tematiche registrate, quindi la corruzione purtroppo nel nostro Paese è un tema importante e soprattutto impatta la competitività e l'efficienza del nostro Paese e il funzionamento delle nostre istituzioni. Detto questo, il codice degli appalti ha sicuramente una parte buona che è legata alla semplificazione. Noi non possiamo pensare che la semplificazione in questo Paese sia sempre qualcosa da demandare ad altri, quindi è importante che si velocizzi, soprattutto perché il tema delle sfide che attendono legate al PNRR è una cosa fondamentale. Peraltro io voglio sollevare anche un tema e una criticità. L'impatto di aver bloccato e di aver messo veramente in crisi le aziende del settore edilizio con il super bonus avrà degli impatti enormi anche sul PNRR, perché sono molte di quelle aziende che poi dovranno lavorare anche sul PNRR. Quindi questa cosa è una cosa che io sottolineo perché è un problema gigantesco che andrà a creare ulteriori disagi da questo punto di vista. Relativamente al codice degli appalti, quindi tornando al punto, la semplificazione va bene. È chiaro che ci sono dei profili che vanno tenuti sotto controllo e quindi sono condivisibili le parole del Presidente Busia, perché chiaramente noi siamo un Paese che comunque da questo punto di vista deve poter controllare. Però io porto il mio contributo da persona con mentalità anglosassone, visto che ho vissuto moltissimo tempo negli Stati Uniti, secondo me è importante fare e poi controllare dopo, che non fare. Quindi io da questo punto di vista credo che sia importante trovare un equilibrio tra quello che è necessario portare avanti per evitare che le cose non si facciano e allo stesso tempo però non regalare o dare una mano alla criminalità organizzata o modalità che sono nepotistiche, legate magari a delle logiche feudatari in certi territori e non sicuramente legate allo sviluppo del Paese. Poi diceva Dettore Mazza che il limite che vede è che a volte questa maggioranza si fa dettare l'agenda all'opposizione ed è curioso perché ad altre maggioranze di altro colore politico dicevamo esattamente la stessa cosa. Però guardi, io posso dire una cosa su questo, perché mi ha colpito quello che diceva prima. Noi siamo di fronte al numero di fiducia massime rispetto anche al confronto degli altri governi, quindi non mi sembra che questo governo si stia facendo dettare l'agenda da nessuno, mi sembra che vada avanti abbondantemente a colpi di fiducia, anche oggi io sono a Montecitorio e io e l'onorevole Bagnai voteremo la fiducia ad un decreto, quindi non mi sembra che ci sia timidezza da questo punto di vista, la vorrei rassicurare. Sentire anche Todd su tema immigrazione perché decreto crutro è un altro, quello voluto dal governo nel luogo della tragedia, è una delle più gravi tragedie negli ultimi anni nel Mediterraneo, c'è il confronto parlamentare, ci sono gli emendamenti, che rischi vede Todd? Intanto io il dato politico che leggo è che si è passati da una campagna elettorale che parlava di porti chiusi, che parlava di blocco navale a una presa d'atto che i flussi sono quadruplicati rispetto all'anno passato, che c'è un fenomeno che oggettivamente è fuori controllo, che in mare le persone si soccorrono perché c'è una legge sovranazionale che lo impone, oltre l'etica ovviamente, ma c'è comunque un punto, Bagnè prima parlava della cooperazione con gli altri paesi, però io registro che per esempio in legge di bilancio i fondi sulla cooperazione sono stati tagliati, quindi noi siamo d'accordo che il fenomeno migratorio è un fenomeno assolutamente complesso e che chiaramente non si gestisce con gli slogan, è una cosa che va analizzata in Europa, dove però le difficoltà che ci sono principalmente vengono portate avanti anche dal blocco di Visegrad, che comunque è il primo che si oppone alla ridistribuzione, quindi questo il Presidente del Consiglio e la maggioranza dovrà, voglio dire, tenerlo in conto quando andrà a rinegoziare in Europa quelli che sono i meccanismi di ridistribuzione. Aggiungo Tote, scusi, è che quando si parla di ridistribuzione, no, perché ha aggiunto un elemento, si parla di ridistribuzione dei richiedenti asilo, che sono una percentuale 10-11% del totale delle persone che arrivano, quindi sarebbe soltanto un pezzetto del tema. Ma infatti il tema è assolutamente molto pieno, infatti volevo proprio arrivare a questo, c'è un conto sono i richiedenti asilo, a me per esempio la tragedia di Cutro ha toccato al di là di ciò che è accaduto, che è terribile, anche perché la maggioranza arrivavano da paesi come l'Afghanistan e la Siria, che sono paesi in guerra, in cui la gente fugge da una situazione oggettiva di guerra e in cui ha normalmente necessità di asilo politico in questo tipo di situazioni. Diverso è il tipo di tematica legata alle migrazioni economiche, ma con tutto quello che sta succedendo al sud del mondo, la siccità che stiamo anche sperimentando nel nostro paese, le carestie, noi vogliamo veramente pensare che senza una seria politica di cooperazione possiamo risolvere questi problemi senza coinvolgere i paesi da dove questi problemi vengono originati, però le politiche di cooperazione devono essere portate avanti con fondi e in modo serio e io onestamente questo non lo vedo. L'azienda, il direttore Mazza, che ovviamente cito marginalmente, non per fare la storia presente, passata e futuro di quel che sarà, però c'è una roba in Parlamento che si chiama Commissione di Vigilanza, RAI e come tutte le commissioni di vigilanza vanno assegnate in precedenza alle opposizioni. Todde, ho capito bene, Barbara Floridi è il nome sul quale avete trovato l'accordo per la presidenza, esponente del Movimento 5 Stelle, di quella commissione di vigilanza. Io non mi occupo di vigilanza, non sono in commissione, credo che è giusto lasciare ai membri della commissione le valutazioni su questo tema, quindi ovviamente è un posto che proprio per il suo tipo di contesto e la delicatezza va all'opposizione, ma sono equilibri che si discuteranno all'interno della commissione, non me ne occupo e sicuramente non posso fare previsioni, posto che proprio io per natura non commento né retroscena né nomi sui giornali proprio perché come diceva Bagnaia anche prima ho molto rispetto relativamente ai nomi, quindi non mi azzardo. non mi azzardo.